segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e l'importanza di questo fondo di cui sono confermatari insieme all'onorevole raffa che poi è stato sottoscritto anche da tutti i gruppi anche a dimostrare la trasversalità del del problema è importante perché la prima misura che attua il principio che è stato inserito recentemente in costituzione principio di insularità che sancisce il fatto che c'è una disparità di chi ha una condizione insulare di collegamento di quindi di continuità territoriale e di altre come se siamo cittadini italiani come gli altri perché è importante perché un fondo che avrà una dotazione di 5 milioni quest'anno e di 15 nel 2024 quindi 5 nel 2023 15 nel 2024 che aiuterà la regione ad avere maggiore massa critica per poter stipulare i bandi per la continuità territoriale quindi significa trattare poi quindi significa avere più capacità finanziaria per poter trattare con le compagnie aeree con le compagnie marittime per poter aumentare le tratte per poterle fare più capillari per poter chiaramente garantire gli spostamenti di uomini quindi la tod e vota la fiducia abbiamo capito chi vota la fiducia allora la tod e non credo adesso non lo so se per questa nova poterà la fiducia per l'insularità insomma certo è impossibile no fatemi dire una cosa Mario Benedetto la staffetta lui